segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te sono qui per il consueto resoconto devo dire sul fronte line è stata una settimana davvero memorabile forse ve ne siete accorti ha pronunciato la sua prima parola ci avete fatto caso in parlamento quando hanno bocciato il salario minimo non ha detto ta 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 ha detto sfruttatori chiar tondo le ho fatto un sacco di complimenti le ho detto questa settimana ha detto una parola magari la prossima ne dice un'altra l'importante che si sia messo in moto un processo lei chiaramente i giovani come sono ho cercato di portare le piedi per terra dico la situazione drammatica si accorta pure questo resoconto del census no che dice che gli italiani praticamente sono ridotti allo stato di sonnambuli a questo proposito pensato cerchiamo di sfruttare a favore questa situazione dico nel frattempo che lei migliori nella sua comunicazione le ho fatto questa proposta lei continua a dire ta 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 però la prossima volta che la invitano in televisione magari dice però l'amplificazione me la porto io quella mia personale così poi quando le danno la parola a casa sentono e si svegliano e giustamente mi ha fatto un'osservazione devo dire molto acuta non ci avevo pensato ma ha detto ta 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 nel senso e chi ti dice che io e te siamo più sveglie degli altri ha ragione ho commesso lo stesso errore di sempre della sinistra che si sente superiore che si sente superiore a tutti gli altri ho chiesto scusa ho detto ho fatto un'affermazione intrisa di patriarcato senza accorgermi non ho fatto la mia autocritica però ho detto segretario adesso faccio anche un pochino la sua perché sonnambuli si dice per non dire rassegnati e il motivo per cui siamo così rassegnati è perché ancora non si vede un'alternativa a questo governo meloni e ta 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 e ta 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 e ta 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 un piffero le ho detto perché mi scusi ma per esempio con meloni io ci devo a che fare abbastanza spesso sinceramente sono 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 molto in difficoltà ultimamente voglio dire vince quasi sempre lei prima prima di sentirla adesso devo fare almeno cinque minuti di meditazione di respirazione altrimenti mi mette i piedi in testa l'altro giorno ho risposto senza prepararmi me le ha fatte affette le ovaie si intende pretendeva ancora che condannassi il via l'attentato approvita il 25 novembre sempre la stessa cosa se capita che uno di noi che trova nicolasci nico cofner cofano è eversivo se uno di voi costringe la polizia a menarlo nessuno dice niente due pesi e due misure chiaramente per evitare questo stamattina quando mi ha chiamato mi sono presa i miei cinque minuti e poi l'ho richiamata soltanto che mi ha risposto arianna guardia la presidenza è una simile impegnata piacere su arianna così ho dovuto fare conversazione neppure con lei che è prepotente almeno altrettanto quanto la sorella e soprattutto attacca un siluro infinito su fratelli d'italia e suonato incarico voi spesso commettete l'errore di vedere i fratelli d'italia come un monelite mentre invece al nostro interno la situazione è molto variegata le faccio un esempio ci sono tanti di noi che per esempio hanno avuto la fortuna di farsi le ossa nei campi hobbit ma ci sono tantissime altre persone che invece sono cresciute con le slot machine come pure ci stanno tante altre che sono cresciute nel mondo dell'estetismo ma pure dell'inestetismo c'è stanno quelli della vigilanza c'è stanno tantissimi che vengono dal mondo dei nunciagu c'è stanno pure tantissimi omosessuali non si creda perché siccome non ostentiamo non si vede ma sebbene le pinete è pieno li trovi dappertutto e poi a un certo punto ha cominciato a urlare il marito dall'altra stanza lo brigida Ariando stanno i pedalini stanno nel cassetto dei pedalini ma vedo su mudonne perché sta guardando il cassetto dei mudonne gli ho detto guardi suo marito la chiamano la voglio sottrarre al suo destino di madre moglie badante quello che sia dico faccia richiamare niente no no poi magari c'è continua a criticare ma prima te volevo far vedere bene com'è questa nostra geografia no ha ricominciato la capo ci sono tanti di noi che vengono dal mondo delle ronde notturne come pure c'è stanno tanti che si sono formati sul flipper tanti che si sono formati nel bracconaggio ma tanti c'è stanno pure animalisti però devo dire più su cani e gatti gli ho detto me fa specie ma manco i delfini no dice non c'è neanche niente manco dei delfini secondo me sarà rubotica domestica ma che ci deve fare la domestica con i pedalini di tua capirete quando finalmente mi ha passato giorgia meloni ero già spompata ero dovuto rifare i cinque minuti insomma non vedevo l'ora di riagganciare anche perché poi adesso lei ha questo tono che secondo lei è istituzionale questa voce bassa che veramente è ancora più insopportabile sta andando veramente grande ci ha fatto caso pure l'abbigliamento è tutta roba di marca me sta tutto male ma te non devi guarda me devi guardarli sul manichino dico guardi già mi ha tenuto sua sorella al telefono mezz'ora per favore mi dica quello che mi doveva dire no 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 sto guardando una cosa molto breve mi fa dice hai visto che c'è stata questa svolta a destra no che per me non c'è problema figurate l'unica cosa Salvini hai visto si è fregato un po' tutti i slogan toglie o vai a quelle senza che abortiscono eccetera eccetera sono rimasta un po' a corto siccome tu scrivi già cominciava a capire dico buttami giù un po' dei frasi stile come si chiama quello di destra molto molto gay quello che proprio ostenta tanto la sua omosessualità dico vannacci ecco brava scrivime una decina dei frasi tipo vannacci cioè ostaggio io ho detto ovviamente mi sono rifiutata io ho detto ma col cazzo cioè nel senso ho detto con questa vulva naturalmente e poi avrei dovuto dire con questa fre puntini puntini perché ci avete fatto caso il 25 novembre sono riuscito a dirlo perché il patriarcato era un po' allentato adesso è di nuovo diventato volgare non ci riesco nemmeno se voglio con questa fre... è solo questione di tempo ma pure di allenamento con questa fre... con questa fre... vabbè niente alla fine ho detto ho seguito come si dice l'indirizzo del partito ho fatto ta 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 è caduta la linea Sabina Guzzanti Grazie 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 Grazie